Si è chiuso con la condanna della Guardia di Confine Svizzera il processo per il mancato soccorso ad una donna incinta, respinta alla frontiera francese di Vallorberi, accompagnata poi in territorio italiano dagli agenti svizzeri nell'estate del 2014. Lesioni colpose, tentata interruzione di gravidanza, ripetuta in osservanza di prescrizioni di servizio, quanto contestato al gendarme. Il tribunale militare di Berna, anche inflitto all'uomo, penna sospesa, sette mesi di carcere e una sanzione pecuniaria di 60 rate da 150 franchi l'una. La storia del gruppo siriano, diretto in Francia, li accompagnato in bus prima a Briga, poi in treno a Domodossola, aveva creato molto clamore mediatico a livello internazionale. Si parlò di scarso senso di umanità da parte dei gendarmi. La donna, poco dopo il suo arrivo in territorio vallesano, accusò i primi dolori, successivamente anche sanguinamenti. A nulla valsero le richieste d'aiuto avanzate dal marito per la giovane donna incinta. Solo dopo l'arrivo in territorio italiano, la donna fu soccorsa dagli agenti della Polfer e poi successivamente trasportata a bordo di un'ambulanza all'ospedale San Biagio. Furono i medici dell'ospedale Domese ad accertare la morte del feto.